Da 61 anni nessun Papa si era più affacciato alla finestra più celebre del mondo il giorno dell'Assunta. Lo fa Papa Francesco e le sue sono le parole di un figlio verso la madre amata e un inno alla piena di grazia, che come narra il Vangelo della solennità dell'Assunzione, è colei che ha creduto alla promessa di Dio diventando madre di ogni uomo. La nostra vita, vista alla luce di Maria Assunta in cielo, non è, ha affermato il Papa, un vagabondare senza senso, ma è un pellegrinaggio verso una meta sicura, la casa del nostro Padre, che ci aspetta con amore. Francesco, che ha invitato la folla a far visita alla Salus Populi Romani in Santa Maria Maggiore, ha sottolineato che la grandezza di Maria spicca in particolare nella sua fede cantata nel Magnificat. La fede è il cuore di tutta la storia di Maria. Lei è la credente, la grande credente. Lei sa, e lo dice, che nella storia pesa la violenza dei prepotenti, l'orgoglio dei ricchi, la tracotanza dei supervi. Tuttavia Maria crede e proclama che Dio non lascia soli i Suoi figli, umili e poveri, ma li soccorre con misericordia, con premura, rovesciando i potenti dai loro troni, disperdendo gli orgogliosi nelle trame del loro cuore. E questa è la fede della nostra madre, questa è la fede di Maria. Al termine dell'Angelus, Francesco ha voluto ricordare e pregare per le vittime della terribile esplosione avvenuta lo scorso 12 agosto nell'area industriale della città cinese di Tianjin, che ha fatto un'ottantina di morti e oltre 700 feriti. Il Signore ha detto il Papa, dia sollievo ai superstiti e a quanti sono impegnati per alleviare le loro sofferenze.